Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video innanzitutto scusatemi se in questo video ho il cappello ma ho avuto dei problemi con i capelli che è meglio non stare qui a raccontare lasciamo proprio perdere, insomma perdonatemi in ogni caso l'Inter batte il Lione 1-0 grazie ad un gol di Steva Jovetic su assist di João Mario João Mario che è stato nominato come Man of the Match ovvero uomo partita della gara fra Inter e Lione una gara nella quale l'Inter ha giocato veramente bene a mio parere un Inter che nelle ultime prestazioni, nelle ultime amichevoli estive ha mostrato dei miglioramenti, ha dimostrato di essere in una forte crescita un Luciano Spalletti che sicuramente sta lavorando, sta facendo lavorare sodo i ragazzi e sta cercando di creare un gruppo compatto e credo che questa sia una delle cose più importanti quando si fanno di nuovi acquisti, quando arriva un nuovo allenatore quando una squadra diciamo che in un certo senso ha come obiettivo quello di riformarsi quasi da capo e spero che queste gare possano essere di buon auspicio affinché l'Inter possa arrivare nella prossima stagione non dico in terza posizione ma almeno in quarta posizione ovvero direttamente in Europa League cosa che per esempio nella scorsa stagione non è accaduta manco per niente, come dicono a Roma poi ovviamente l'obiettivo rimane sempre il terzo posto ormai sono 3-4 anni che lo diciamo però io mi rendo conto che sia abbastanza complessa come cosa considerando anche che Juventus, Napoli, Lazio, Roma e adesso anche Milan, forse anche la Fiorentina sono nettamente superiori rispetto a noi e di conseguenza il prossimo campionato forse sarà anche più complesso più avvincente ma difficile, complesso per noi rispetto ai precedenti per cui non sarà semplice raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio di questa stagione che ormai è stata avviata da qualche settimana e alla fine sono gli stessi obiettivi che ci fissiamo ogni anno purtroppo costa dirlo ma è così Gio Mario che ha regalato spettacolo che ha toccato molti palloni che li ha gestiti bene ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti della nostra rosa attuale credo che meriti la maglia numero 10 seppur sia un numero pesante, importante che è stato indossato da grandissimi calciatori nella nostra storia uno degli ultimi, Wesley Schneider un grandissimo calciatore però insomma, considerando la nostra rosa attuale credo che lui fosse uno dei giocatori più pronti più adatti per questo numero un numero, ripeto, molto importante un numero fondamentale per una squadra di calcio spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto spero che l'Inter possa continuare a migliorare perché è importante che soprattutto in estate sembra strano dirlo però è importante che soprattutto in estate si facciano delle prove che si mostrino dei miglioramenti perché poi così magari durante il campionato italiano si possa semplicemente disputare un'ottima stagione non dover stare lì a migliorare durante l'anno vi invito a lasciare un mi piace a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto scrivetemi qui sotto nei commenti cosa pensate di questa gara fra Inter e Leone terminata con il risultato di 1-0 grazie al gol di Jojo Jovetic noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video con delle nuove news di mercato con le nuove recensioni di queste amichevoli che l'Inter sta disputando in questi giorni noi ci vediamo appunto in un prossimo video sempre e comunque forza Inter ciao ragazzi